ciao a tutti e benvenuti su questo canale il mio nome è gina e oggi volevo parlare con voi della legge della trazione universale oggi volevo darvi la formula o il sistema esatto di come fare a riprogrammare il nostro subconscio e il tuo subconscio e così ti mostrerò come liberarti completamente dal tuo vecchio programma subconscio e quindi di conseguenza riprogrammare il tuo subconscio in un nuovo modo nel modo giusto che tu desideri sperimentare e così alla fine di questo video spero che smetterai di combattere con te stesso per raggiungere quello che vuoi e così renderlo uno stato naturale neutrale senza sforzo quindi in uno stato del flusso neutrale ok senza sforzo allora ora vi dirò il ciclo naturale di come funzionano le cose e quello che trasfermerà la tua e la nostra vita in generale questo è noto anche come il ciclo di auto riprogrammazione e parleremo anche di quello che è noto come il sistema di attivazione reticolare e perché sono stata siamo stati programmati inconsciamente per essere in un certo modo e perché abbiamo funzionato o funzionato finora così per tutta la mia vita allora prima di tutto dovete sapere o lo sapete già che la concentrazione l'attenzione crea la trazione e cioè su qualunque cosa ti concentri ti focalizzi ok sei attento lo focalizzi come un magnete lo attiri verso di te ecco perché vi dico di non concentrarvi mai sulle cose sbagliate perché queste cose sbagliate arriveranno sempre di più le cose che non vogliamo quindi dobbiamo concentrarci solo sulle cose che vogliamo perché se lo facciamo altrimenti attraiamo ciò che non vogliamo giusto quindi noi siamo in uno stato così di scarsità se guardiamo ciò che non ci piace se ci concentriamo sull'esprimere insoddisfazione quando le cose non vanno come vorremmo che andassero e così esprimere gratitudine quando le cose vanno quando noi vogliamo che vanno in modo giusto che noi decidiamo quindi dobbiamo concentrarci su quello che vogliamo e quindi chiederti sempre dove mi sto concentrando dove metto la mia attenzione dove è il mio focus mi sto concentrando sono attento a quello che possiedo quello che ho oppure sto notando quello che ho e cioè la mancanza ok un'altra cosa che bisogna sapere come il risultato di questo condizionamento noi rimaniamo bloccati in quello che è conosciuto come la legge del ritmo ipnotico e questo è un concetto trattato da uno dei grandi della legge della trazione insegnanti della legge della trazione universale quindi da napoleonin ed è fondamentalmente un modo per spiegare perché le persone non sono in grado di liberarsi da certe abitudini ok da certi programmi quindi a quello che come dire avere una dipendenza perché poi alla fine tutto anche il pensare negativamente è una dipendenza se andiamo a vedere allora napoleonin cosa dice che il 98 per cento della popolazione è bloccata in questa legge del ritmo ipnotico e quindi non è in grado di liberarsene ed è lui dice che effettivamente solo il 2 per cento 2 barra 5 per cento adesso che la gente è come dire è soggetta inconsciente a questo ritmo a questa legge del ritmo ipnotico e quando vi spiegherò questo ciclo di auto riprogrammazione questo avrà molto senso quello che ho detto finora e imparerai così a liberarti da questa legge del ritmo ipnotico è possibile se lo vuoi è possibile se tu lo vuoi nonostante quello che la gente può pensare o potrebbe dire allora quello che voglio fare con questo video e farvi capire che possiamo liberarci dal condizionamento inconscio a cui siamo stati sottoposti inconsapevolmente e così arrivare al punto in cui ci riprogrammiamo consapevolmente per creare successo e abbondanza nella nostra vita e anche se ti porterò ad arrivare inconscemente a quel valore predefinito ti chiedo comunque di essere cosciente perché inconscemente soffrirai sempre del tuo successo se non lo capisci ecco perché devi capire come funziona questa cosa per cercare di liberarti da ciò di non avere quella mente di scarsità di non cercare la cosa veloce subito come dire di non pensare solo oggi alla sopravvivenza di non andare a quel punto della mancanza della scarsità ok non devi vivere solo adesso devi pensare all'abbondanza che sei già ecco perché siamo bloccati al paradigma del livello più basso allora dicevo andiamo a vedere il ciclo di auto riprogrammazione partendo dal punto dove siamo adesso e portati a un punto in cui scegli qualsiasi pensiero tu abbia e qualunque cosa tu accetti allora prima di tutto dobbiamo capire che tutti noi abbiamo pensieri e quindi noi sappiamo che i pensieri sono creativi e tutto parte dal livello del pensiero allora questi pensieri sono di due tipi quelli che ricevi ok dalla società dagli altri anche come suggestioni come idee così via e quelli che sono un'uscita quelli che scegliamo consapevolmente i pensieri che ricevi sono quelli che dicevo quello che ricevi dalla tv dalla programmazione dalla pubblicità attraverso altre persone l'ambiente dove vivi e così di questo passo e pensieri in uscito sono quelli su cui tu stai scegliendo consapevolmente di concentrarti quindi l'inizio del ciclo dell'auto riprogrammazione a livello del pensiero il pensiero arriva tu lo accetti o lo rigetti due sono le possibilità giusto dopodiché tu colleghi a quel pensiero un'emozione un'immagine quello che succede vi dico spesso è che i pensieri da soli non fanno nulla senza la nostra attenzione senza la nostra emozione non ci possono danneggiare se non ci attacchiamo cosa al pensiero l'emozione quindi se il pensiero lo vediamo lo lasciamo andare non ci può danneggiare ma se arriva un pensiero e ci attacchi un'emozione qui succede qualcosa questo pensiero si carica effettivamente quindi devi essere molto attento quando arriva un pensiero lo guardi mi piace o non mi piace lo lascia andare due sono le possibilità o a te ti piace lo ami o lo odi quel pensiero quindi o lo accetti o lo rigetti per darvi un pensiero o Gina non è capace di insegnare quindi divento insicura mi sento insicura l'emozione che produco e l'insicurezza che e io di conseguenza come risultato di questa emozione con il tempo inizia a diventare una convinzione una credenza e quindi ora inizio a credere che non sono in grado di fare di insegnare perché c'è abbastanza pensiero e abbastanza emozione da essere stata condizionata in un certo modo e diventare un credo però ricordati una cosa non l'ho scelto io il pensiero è arrivato questo pensiero è stato un pensiero in arrivo è un pensiero che non ho scelto io perché dovrei sceglierlo perché dovrei scegliere di ferirmi ok quindi il pensiero emozione e ora credo pensiero emozione ora credo che non sono in grado di insegnare la cosa pazzesca è che quando ho iniziato a credere un pochino il credo per esempio non è abbastanza forte per essere una convinzione ancora non è a livello della legge del ritmo emozionico c'è ancora spazio per cambiarlo c'è ancora spazio per il cambiamento quando diventa un credo si verifica un fenomeno interessante e cioè quello che vi dicevo poc'anzi del sistema di attivazione reticolare questo sistema di attivazione reticolare viene programmato con questa convinzione con questo credo al punto in cui inizi a cercare la prova ok la cosa interessante che una volta che il tuo sistema di attivazione reticolare e programmato cosa succede inizierai a cercare o questo sia che sia consciente o che sia inconsciente più dirle volte inconscio quindi cosa succede ha iniziato inconsciente a cercare una prova di questo e la tua mente la mia mente viene semplicemente programmata per ignorare tutto il resto e concentrarmi su cosa sul fatto su questa convinzione sul fatto che io non sono brava o in grado di spiegare di insegnare quindi il pensiero iniziare gina non è in grado di spiegare l'emozione o mio dio non sono in grado di insegnare quindi l'emozione lo carico ancora di più con l'emozione dopo ci credo ok non sono in grado di insegnare il mio sistema di attivazione reticolare viene programmato e una volta che vengo programmata cerco la conferma di questo credo e cioè che non sono in grado di insegnare e inizio a cercare le prove e se trovo un commento negativo mi concentro solo su quel commento negativo anche se ce ne sono centomila positivi ok e dopo che ho avuto la conferma ok diventa una convinzione ecco io a questo punto l'ho accettato e qui inizia ritmo ipnotico ok accettato ciò entro nella legge rimango bloccata nella legge del ritmo ipnotico e ora è difficile da cambiare perché con il tempo questa convinzione diventa sempre più forte è sempre più forte e continua a passare attraverso questo ciclo ancora e ancora e ancora pensiero emozione credo e sistema reticolare si programma quando si programma cerco confermazione per quello che penso e ora diventa una convinzione e io inizio a credere e questo diventa sempre più forte ed è questa la legge del ritmo ipnotico come dicevo poc'anzi finché diventa veramente difficile liberarsi da questa convinzione ed ecco perché è difficile per le persone che anche come me per esempio che tutta la vita hanno avuto un modo una credenza o una convinzione un modo di vedere le cose tutto entrato quando viene in contatto con questi insegnamenti con queste leggi di come funziona l'universo la fisica quantistica la scienza è difficile lavorarci sopra però è possibile quando sei cosa quando hai la costanza sei deciso a cambiare quando lo vuoi veramente ok e quando lo vuoi veramente cosa succede diventi disciplinato e hai la costanza di fare quelle cose continuamente perché vedi che c'è la possibilità di cambiare è come un lavoro ragazzi non vi potete fermare dopo un mese due anche un anno o due diventa uno stato mentale di libertà assoluta e tu lo cerchi perché ti fa star bene ok ecco perché vi consiglio se avete figli piccoli o figli comunque state attenti a quello in cui credono ok perché a quello che credono e a cosa credono perché è meglio aiutare a cambiare adesso che sono piccoli o comunque giovani allora visto questo quello che voglio fare l'obiettivo qual è di tutto questo lavoro di tutto questo e di cambiare consapevolmente il nostro ciclo ok e di scegliere consapevolmente tipo di pensieri che vogliamo avere intrattenere sostenere che vogliamo che scegliamo insomma ok allora quello che dobbiamo sapere è che tutto inizia a livello del pensiero abbiamo detto il pensiero si evolve in una convinzione in un credo in una credenza e la credenza si evolve in una convinzione quindi questi sono i tre livelli pensiero credenza e convinzione allora questo è il più alto livello di convinzione invece quello che abbiamo visto prima il ciclo di prima è il più basso che inizia veramente da un'opinione da un pensiero in arrivo questo pensiero è solo un'opinione in arrivo ok è quello che dicevo prima quella che gina non è in grado di insegnare di aiutare gli altri è solo un'opinione posso scegliere di accettarlo o non accettarlo di ricettarlo dipende da me ed è qui che possiamo scavalcare consapevolmente questo processo ecco perché vi chiedo di fare molta attenzione a questo quindi ammettiamo che adesso voglio dire o in realtà gina sa insegnare gli altri e quindi voglio programmare me stessa con questa credenza che sia brava insegnare in modo da continuare con confidenza e sicurezza quindi scelgo questo pensiero il pensiero estroverso i pensieri estroversi sono quelli che scegliamo consapevolmente i pensieri in arrivo sono quelli che non scegliamo ok ma che in realtà accettiamo comunque sia consapevolmente che inconsapevolmente perché siamo innocenti ok e quindi cosa faccio parto da questo pensiero ci attacco l'emozione che sono brava a insegnare ok diventa un credo diventa una piccola convinzione non è abbastanza grande però diventa come dire una piccola credenza una piccola convinzione ora cosa devo fare devo scegliere ok consapevolmente visto che la mia credenza non è ancora forte la mia convinzione non è ancora forte devo scegliere consapevolmente di programmare il mio sistema di attivazione reticolare per cercare prove quindi scelgo consapevolmente vado a cercare le prove di quello che voglio credere e quindi invece di vedere un commento 10 commenti negativi vado a cercare quei 90 che sono positivi ok che sono brava a insegnare che sono capace a spiegare ok qualcuno dice ok gina grazie per questo video mi ha aiutato tantissimo e quindi questa è la prova e quindi cosa faccio ora conferma questa questa leggera credenza e diventa una convinzione e quindi dobbiamo ripetere questo ciclo ancora e ancora e ancora e ancora e ancora per liberarci da quel condizionamento perché vi ricordate cosa abbiamo detto all'inizio che eravamo programmati inconsapevolmente per esprimere insoddisfazione piuttosto che esprimere gratitudine ok quindi una volta che noi iniziamo a ripetere consapevolmente tutto questo mantra visualizzazione questo sistema di attivazione reticolare viene naturalmente programmato per accettare quest'idea queste immagini queste emozioni quindi inizia a cercare modi che gina è brava a fare quello che sta facendo che e quindi vado a cercare le prove oh ci sono più commenti più visualizzazione quindi vedi sono brava a spiegare sono brava ad aiutare gli altri sono a sono brava a fare questo e quindi questa convinzione diventa sempre più forte senza rendermi conto inizio a concentrarmi solo sulle cose che voglio vedere e ignorare le cose che non voglio vedere ed è questo lo stato è lo stato in cui devi stare ignorare completamente quelli stati che non ti portano da nessuna parte ok quei pensieri che non ti interessa e concentrarti su quelle cose che vuoi e cioè inizio a fare cosa? a ignorare io in questo caso i commenti negativi e guardare solo i commenti positivi la gente che veramente apprezza ciò che sto facendo e ne hanno beneficio perché non tutti saranno d'accordo con quello che dico non quello non tutto nel modo come lo dirò sarà in risonanza con tutti ci sarà sempre qualcuno che non lo capisce o non lo vuole capire oppure non gli piace il modo come lo dico nella maniera il formato e così via ed è questa come dire questa è la formula esatta il ciclo di riprogrammazione automatica e così imparando a capire queste cose come funzionano queste informazioni pensate che la gente si fa pagare per queste informazioni per insegnarvi queste cose tante volte le persone non apprezzano quando le cose sono gratis perché non dà valore alle cose che vengono gratuitamente perché siamo stati programmate così gli inglesi dicono e mi piace tanto veramente if you pay you pay attention quindi se paghi come dire sei attento a quello che ti viene detto ma se è gratuito ma se è gratuito non mi interessa vuol dire che non ha nessun valore ok perché perché siamo programmati ok siamo programmati che se una cosa è gratuita deve essere di scarsa qualità allora prima di tutto io vi consiglio di fare attenzione ai pensieri che accettate come veri i pensieri che sono in entrata e i pensieri che sono in uscita è molto importante capire che i pensieri che arrivano ok cosa facciamo le accettiamo o lo rigettiamo ok perché se qualcuno ti dice domani ci sarà un uragano qui tu non lo devi accettare tu devi essere preparato ok ma non ti devi preoccupare in anticipo per una cosa che non è ancora qui per un'idea di qualcuno non è che devi andare in giro a spaventare tutti quanti o perché domani succederà questo succederà quest'altro perché l'hai sentito dire qualcuno mi dice sempre che non devi piangere che ti hanno rotto la testa finché non te la rompono davvero quello che intendo dire è non andare in panico non accettare e non come dire non attaccare un'emozione a un pensiero che non ti piace in quella fase non devi dargli un'emozione se non ti piace un pensiero quindi cosa succede quando ti arriva un pensiero se scegli che quel pensiero è una cosa benefica che ti serve ci attacchi l'emozione l'emozione diventa un credo questo credere diventa consapevolezza sei ripetuto sei consapevole di ciò in cui credi diventi confidente che quella cosa ti piace e quella confidenza quell'immagine con la visualizzare quel mantra ti porta la convinzione allora abbiamo detto che il pensiero prima di tutto il credo secondo è la terza è la convinzione questi sono i tre passi per auto riprogrammarci questo è il livello più alto dobbiamo farlo consapevolmente finché diventa una credenza un credo e il nostro sistema di attivazione reticolare si programma e quello sarà la nostra esperienza il programma che avrà installato tu per il successo per l'abbondanza per la salute per quello che ti piace fare quello che ti piace vivere per esempio quando dici che io sono capace devi assumere che sei capace il primo livello del pensiero devi convincerti che così diventa consapevole di quello che vuoi e di quello che sei devi cercare di stare sempre concentrato su quello che desideri non stare in quello stato di bisogno e di disperazione ok ma capire che con tutte queste informazioni con tutti questi video che abbiamo fatto finora quello che dobbiamo capire è che dentro di te c'è la forza creativa creatrice e questo è come riprogrammare il nostro subconscio come funziona questa è la formula di come riprogrammare e come funziona per capire meglio ok allora io mi fermerei qui e vi aspetto con il prossimo video grazie di tutto e alla prossima grazie ciao a tutti